Com'è qua? Chi c'è a giocare qua? Fresciatori, tornitori, rettificatori, contro impiegati, ufficio tecnico, sala metrologica, montaggio, seghetti, no seghetti non c'è nessuno, si, ma ricco, ma ricco, ma ricco, ma non tento, mamma, vai là, mia, ma è messa un'altra volta a mezzo, ma Dio buono, hai già preso quella lì, si,